Bene ragazzi, sono Fulvio e siamo qui oggi con un nuovo video. Stiamo parlando di uno smartwatch, è uno smartwatch abbastanza economico, di una marca non troppo chiacchierata, stiamo parlando di Qubot. Qubot ci ha inviato questo smartwatch, il Qubot C3, che si presenta con uno smartwatch molto economico, che non rinuncia però a funzionalità premium. Stiamo parlando di uno smartwatch che arriva sul mercato a circa 35€, poi dipende dal paese di provenienza del sito da cui lo compriate, oscilla anche tra i 30 e 40€ e si presenta in questa confezione, dove al suo interno troviamo l'orologio che è già stato disinserito, un cavo per la ricarica proprietaria e un cinturino in silicone di ricambio nero semplice. Perché dico semplice? Andiamo a vedere il nostro smartwatch Qubot C3. Questo smartwatch arriva con questo cinturino in silicone, non di altissima qualità, che non so che materiale vuole imitare, ma parliamo un po' dei pregi di questo smartwatch e anche delle sue caratteristiche. Questo smartwatch arriva con un display circolare da 1,3 pollici di tecnologia IPS, con risoluzione 240x240 pixel. Il monitoraggio di tutti i sensori che ritroviamo al suo posteriore, sensore per la rivelazione dei battiti cardiaci, è di 24 ore su 24. Abbiamo una batteria da 260 mAh che ci garantisce un'autonomia fino a 15 giorni. Ho un Bluetooth 5.1 ed è anche compatibile con iOS. L'ho provato sia con l'iPhone 11 Pro Max sia con i miei Android in casa e la compatibilità è totalmente accettata dallo smartphone. Beh, andiamo a vedere questo display che forse è quello che mi ha un po' più impressionato di questo smartwatch. Questo smartwatch arriva con un display IPS, ma come vedete, vedendolo dal frontale, sembra quasi un nero assoluto. Solo se andate a virare tanto si comincia a intravedere il grigio, ma come potete vedere è di un'ottima qualità questo display. Quindi davvero un plasso a Cubot per aver inserito un ottimo display su uno smartwatch di questo prezzo. Questo smartwatch arriva con una cassa in alluminio, abbiamo il sensore per la rivelazione dei battiti cardiaci e l'attacco per la ricarica proprietaria. È abbastanza doppio, ma pesa anche poco e al posto si tiene comunque abbastanza bene. Non è comodissimo, però ci si fa l'abitudine. Arriva con due tasti fisici, un tasto per l'accensione che lo spegne anche. Purtroppo non c'è la gesture che quando poggiate il palmo della mano sullo smartwatch si chiude, funziona la gesture del polso e funziona anche abbastanza bene. È questo tasto che serve a tornare indietro. Le watch face sono abbastanza ridotte, ma ci sono, diciamo per tutti i gusti, c'è anche una watch flash classica che io adoro utilizzare su uno smartwatch circolare. E diciamo che tuttavia, anche con questi problemini, con questi cinturini non di altissima qualità, con uno spessore molto elevato, lo smartwatch comunque in sintesi si presenta abbastanza bene. Ma andiamo a vedere come si muove questo smartwatch. Questo smartwatch ha, diciamo, il menu di una classica band e riesce a fare, diciamo, monitorare abbastanza sport. Come vedete ci sono molti sport per uno smartwatch del genere. Abbiamo il conteggio dei passi, la misurazione del sonno, la frequenza cardiaca, informazioni che sarebbero le notifiche, queste sono le classiche traduzioni di uno smartwatch cinese, possibilità di gestire cronometri, musica, conto alla rovescia, femminile non ho mai capito cosa significa, questa funzione non è attiva, non voglio saperne di queste funzioni, simpatica la funzione per gestire la fotocamera da remoto dello smartwatch e tutte le impostazioni dello smartwatch. Beh, che dire, lo smartwatch risulta anche abbastanza completo, ovviamente le notifiche le legge tutte, non abbiamo problemi di ricezione, non abbiamo ritardi nella ricezione, solo che la vibrazione è abbastanza zanzarosa al polso, non eccessivamente zanzarosa, abbastanza sopportabile e naturalmente per una durata della batteria del genere voi potrete solo guardare e leggere le vostre notifiche, le legge tutte, ma tranne l'emoticon. Quindi uno smartwatch davvero molto base, lato smart. Ma andiamo a vedere come si presenta l'app. L'app in questione è H-Band. H-Band che devo dire mi ha abbastanza impressionato. Questa applicazione è abbastanza completa e riesce a gestire un po' tutto quello che noi siamo abitati a gestire da un'applicazione di smartwatch, come la parte fitness, la parte del sonno, la parte dei passi, possiamo gestire il nostro dispositivo, dove all'interno possiamo impostare tutto quello che vogliamo, le impostazioni, le notifiche, aggiornare il software. Beh, quindi è un'applicazione basica ma molto completa ed intuitiva. Beh, questo era un video molto veloce per dirvi che sì, a questo prezzo potete trovare tantissime band, tantissimi smartwatch cinesi, ma ho provato altri smartwatch cinesi in questa fascia di prezzo e diciamo che non erano affidabili come questo, perché tuttavia questo smartwatch con i miei difetti è totalmente affidabile, non perde nessuna notifica, la batteria è davvero ottima, ha comunque un design che può piacere o non può piacere ed ha soprattutto un ottimo display che si vede benissimo quasi sotto tutte le condizioni di luce e questo mi ha un pochino impressionato. Beh, quindi era un video abbastanza veloce per parlarvi di questo Qubo C3. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nel box dei commenti. Io sono Fulvio per Spazitech, ci vediamo alla prossima recensione.